ancora buona domenica buon viaggio da firenze smart mauro ciutini traffico rallentato tra calenzano e il bivio a 1 variante di valico siamo in a 1 la direzione quella per bologna rallentamenti per un veicolo fermo in a 12 tra massa e versilia in direzione genova passiamo alla firenze pisa livorno anche qui rallentamenti per un veicolo in avaria all'interporto toscano ovest da firenze per quanto riguarda i treni il 61 43 castelnuovo pisa viaggia con 55 minuti di ritardo passiamo a firenze lavori per la tramvia in viale dominzoni procedono quelli per la realizzazione della sede tramviaria con l'istituzione dal primo agosto di restringimenti di carreggiata da via piercapponi e via giacomini stesso provvedimento anche in via leonardo da vinci nel tratto viale dominzoni numero civico 31 mentre nel tratto viale dominzoni via fra bartolomeo scatterà un senso unico verso quest'ultima è tutto buon viaggio buon viaggio